Là dove ci sono ragazzi o situazioni particolari, gestire la quotidianità è veramente pesante. Però dobbiamo fare i conti con una condizione, una condizione, la scelta dello stato di salute che è quello che comunque è stato perseguito fin dall'inizio nella scelta di non dare una continuità al servizio in modo così senza valutazione. Perché comunque c'è una condizione di rischio, tant'è che la nostra intervista è a distanza. Anche il rapporto che interviene tra l'operatore e il bambino, il ragazzo richiede una vicinanza, una relazione che comunque incide, cioè è chiaro una mancanza incide sicuramente però incide anche una vicinanza. Ritengo che bisogna in un qualche modo far riferimento alla nostra capacità di resilienza che ritengo che nelle famiglie con disabilità, grazie tra virgolette a questa situazione diciamo che la vita gli ha riservato, hanno sicuramente sviluppato delle capacità che molte persone cosiddette comuni non hanno.